Ieri il Consiglio regionale ha compiuto un altro atto di arroganza verso il mondo agricolo abruzzese. Ha messo definitivamente il bavaglio agli agricoltori abruzzesi che non possono più votare per i loro rappresentanti all'interno dei consorsi di bonifica. I consorsi sono commissariati da anni, hanno reso sempre di più proroghe su proroghe. Ieri hanno approvato la maggioranza in Consiglio regionale un'ulteriore proroga. Sono anni che gli agricoltori abruzzesi non possono esprimere i propri rappresentanti, che governano questi enti fondamentali per l'irrigazione abruzzesi. Sono enti commissariati. Io voglio ringraziare i commissari regionali che hanno reso un servizio importante, ma l'autogoverno di questi enti è fondamentale per gli agricoltori abruzzesi. Il primo risultato che hanno mancato proprio con i fondi del piano nazionale di resilienza sono stati quelli per l'agricoltura e per l'irrigazione in agricoltura. Hanno detto che per problemi di Covid non si può votare. Non è vero. È stato votato a Roma, a Bologna, a Milano. Abbiamo rinnovato i consigli regionali. Questa è una bugia per continuare a mettere il bavaglio agli agricoltori abruzzesi.